Quindi il mio compito finisce qui, quello di innanzitutto ringraziare tutti i partecipanti, ricordo che questo master lo potrete rivedere quante volte volete perché verrà registrato e gli iscritti potranno, anche se magari nelle due giornate perderanno degli interventi perché magari impegnati in altre cose, lo potranno rivedere come e quando vogliono. Quindi Alberto a te la parola, Michele grazie, un abbraccio di cuore per la tua partecipazione e l'impegno, grazie mille. Grazie prof. Michele se vuoi ti lascio rispondere al prof e poi dopo cominciamo. Grazie intanto Alberto, Luca e grazie prof della presentazione, è persino esagerata, mi fa piacere particolarmente che tu avessi sottolineato quelli che sono poi gli obiettivi, no? La filosofia di un settore giovanile, il lavoro condiviso, il fatto di avere delle linee guida a cui tutti i componenti di un settore giovanile si devono, si dovrebbero adeguare in un'ottica super ottimistica, ma spesso e volentieri succede. Devo dire che i settori giovanili italiani negli ultimi anni, apro e chiudo la parentesi, a mio avviso sono cresciuti molto, hanno fatto dei passi avanti notevi da questo punto di vista. E poi noi abbiamo la vostra scuola, la scuola di Coverciano, la scuola dove siamo cresciuti, dove ci siamo aperti completamente alle vostre indicazioni, ai vostri suggerimenti, ai vostri insegnamenti. Quindi insomma, dobbiamo portare avanti un progetto, un percorso di un certo tipo, incentrato sulla formazione dei ragazzi, mettendo assolutamente, questo è l'obiettivo principale nostro da vent'anni a Genua, il ragazzo al centro del progetto, questa parola un po' inflazionata, che però in questo caso devo dire che è opportuna. Bene, allora cominciamo. Perretto tu puoi intervenire quando vuoi, altrimenti poi insomma ci vediamo nel dietro le quinte. Grazie. Allora cominciamo con Michele, condividiamo lo schermo, parleremo con te del, sì, in generale, un po' di quello che è il ruolo del responsabile del settore giovanile, gli occhi che deve avere il responsabile del settore giovanile e poi vedremo anche qualcosa più nel dettaglio di quello che è il vostro lavoro all'interno del Genoa FC. Cominciamo con una piccola presentazione, quindi il tuo percorso, sei stato un giocatore, sei stato allenatore e poi sei diventato responsabile. Adesso che sei responsabile ti guardi indietro, come vedi questo percorso? Vedo un percorso, a mio avviso, straordinario di cui sono orgoglioso dal punto di vista soprattutto della possibilità che ho avuto di far parte del mondo dei privilegiati, perché noi siamo dei privilegiati, fare dello sport, fare del calcio in particolare, la propria professione, credo che sia un privilegio. Sia un privilegio perché poi dopo andremo nel dettaglio su quello che è il concetto base, su cui personalmente mi baso da anni, e che è l'aspetto passionale, l'aspetto della passione assoluta, e quindi riuscire a coronare il proprio sogno di fare dello sport, il proprio lavoro, è veramente una grande soddisfazione che mi rende orgoglioso. Poi i livelli dipende, dipende dalla fortuna, dipende dalla capacità, dipende anche da quello che uno vuole raggiungere, e credo anche Alberto, dall'individuazione durante questo percorso, delle caratteristiche che ognuno di noi ha, perché spesso e volentieri, soprattutto quando si smette di giocare, si pensa a una carriera, a proseguire la carriera nel calcio, a proseguire la carriera nello sport, però a volte non si hanno le idee chiare. A me è capitato di incontrare tanti ex giocatori che iniziano, ma non so cosa vorrò fare, vedremo, forse il dirigente, forse l'allenatore, bisogna individuare un attimino quella che può essere la tua predisposizione, a essere per esempio comunicativo, empatico, direzionale, a essere molto bravo sul campo piuttosto che dietro la scrivania.